E' in serie A1! E' in serie A1! Solo con il direttore generale Italo Palmieri! Italo! E' un momento storico, un momento bellissimo! Avete lavorato tantissimo per questo risultato e finalmente è arrivato! Siamo contenti, dedichiamo questa vittoria alla nostra bomber Maria Caramia che non è potuta essere qui con noi oggi, la vittoria è anche sua come di tutti di Salvatore il magazziniere, del preparatore atletico Felice De Maio, di Nello Riccio, di tutti soprattutto delle ragazze che fanno tanti sacrifici per arrivare a questo Napoli voleva la A, ci siamo arrivati, adesso comincia il bello! Direttore, io so che in questo momento tu vuoi festeggiare, vuoi stare con le ragazze ma io ti rubo ancora una battuta! Che cosa succede adesso? Che cosa aspetta Napoli Carpisaia? Ormai che cosa avverrà? La Coppa America credo abbia dimostrato che questa città vuole qualcosa di nuovo nello sport! Esiste il Napoli di calcio maschile ma esiste anche il calcio femminile, la vela, il basket, la palla a nuoto! C'è voglia di nuovo e noi dobbiamo cavalcare questa voglia di nuovo! Grazie direttore, sempre forza Napoli Carpisaia!